ciao ragazzi bentornati nello studio di balli allora oggi facciamo un video molto 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 breve veramente cortissimo sarà più questo mio discorso iniziale di preambolo che il video in se stesso perché andiamo a fare una semplice cosa un porta chiavi con la resina dall'inizio alla fine quindi anche come attaccare la parte del porta chiavi proprio il pendaglio eccetera faremo un porta chiavi con la resina e userò questo stampo in silicone mi servirà in realtà solamente la lettera h perché mi è stato chiesto questo porta chiavi e quindi mi serve la lettera h e e dentro alla resina io userò la resina trasparente userò la resina quella che si asciuga in sei ore che è molto più densa però si asciuga velocemente perché ho bisogno di velocità in questo caso perché lo devo dare praticamente domani questo porta chiavi quindi mi sto sbrigando e mi serve questa resina all'interno poi della della resina ci metterò dei piccoli petali essiccati che sono bellissimi lo vedrete mentre li sistemo e dopo di che ci andiamo a creare proprio un piccolo porta chiavi con tutti quanti i passaggi del materiale che ci può servire quindi andiamo a vedere questo fantastico portachiavi con questa resina che è molto densa devo andare a riempire anche gli angoletti per andare a livellare bene tutto poi mi vado a inserire questi fiorellini che sono carinissimi con le pinzette di appoggio così cercando di appiattirli più possibile ovviamente farli entrare nella resina e poi mi vado a calare un altro strato di resina per chiuderli dentro diciamo fissarli con uno stecchino me li spingo giù quelli che sono saliti un pochino in superficie e tanto è talmente densa che dovrebbero rimanere affondati sotto e sopra per chiudere me ne metto qualcun altro questi rilascio leggermente in superficie ma tipo rosa lo devo un pochino spingere da no non ce la fa no questo lo devo andare sotto ok lo mandiamo sotto questo però può rimanere un po qui ok adesso questo qua lo lasciamo asciugare almeno sei ore ok ci andiamo ad estrarre la nostra h e vediamo com'è avvenuta direi perfetta ok adesso andiamo a montarci un pernetto per fare un porta chiavi prendiamo il trapano a mano che ha un aggeggio veramente carino e andiamo a bucare sul lato della dell'h andiamo a inserire il nostro pernettino che si avviterà avendo già dato con il trapano la forma della vite ce lo andiamo semplicemente a girare all'interno una volta che arriva al bordo della diciamo dell'h di questa base qua lo lo fermiamo dopo di che ci andiamo a prendere il nostro cerchiettino e con le pinze ce lo apriamo doppie pinze per non farci male più che altro ci apriamo il nostro perno lo agganciamo dentro il porta chiavi a forma di cuore e successivamente dentro al pernetto che abbiamo messo nella resina e ce lo andiamo a richiudere così piano non mi faccio male io ok ok molto semplicemente il porta chiavi è fatto eccolo qua è carinissimo carinissimo proprio da questo lato ci sono un po più di fiorellini che che sbordano che però mi piace tantissimo quindi tendo sempre a farlo in questo modo almeno quando metto questi fiori che sono carinissimi ed ecco qua il nostro porta chiavi è fatto